15 marzo, terza domenica di Quaresima. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. È l'inizio di un lungo Vangelo in questa terza domenica di Quaresima. Il bellissimo dialogo di Gesù con la donna di Samaria, la samaritana. Il Vangelo parte da una situazione che potremmo dire di disagio. Tutto allontana, tiene lontano da Gesù questa donna perché è donna. Il rabbino, come era Gesù, non parla mai in pubblico con una donna ai tempi di Gesù. È una samaritana e il Vangelo lo dice. Tra samaritani e abitanti della regione di Gerusalemme non corrono buoni rapporti. Poi dal colloquio viene fuori anche che la donna ha avuto molti uomini, molti mariti e l'uomo che ha adesso non è suo marito. Tutto dunque dice lontananza. Ma tutte queste barriere vengono superate perché Gesù stesso prende l'iniziativa. Prima chiede da bere alla donna e la donna si meraviglia. Gesù non ha nulla da attingere. Come mai chiede da bere? E poi si discute sul rapporto fra samaritani e giudei. Tutte queste discussioni non approdano a nulla. Allora Gesù dice vai a chiamare tuo marito. A quel punto la donna deve rivelare un po' le magagne della sua vita. Non ho marito. E Gesù glielo dice sì, questo che hai non è tuo marito, ne hai avuti quattro di mariti prima di lui. A quel punto la donna è sconvolta. Ma Gesù supera anche la meraviglia della donna rivelandosi lui come il Messia atteso. Lui, Gesù, si rivela come Messia a quella donna. E allora la donna va a chiamare gli abitanti della città e vengono. È interessantissimo questo dialogo, questo straordinario dialogo fra Gesù e la donna. Perché ci dice una cosa semplice e affascinante. Gesù incontra la donna e la donna incontra Gesù a un pozzo da dove si attinge acqua. Lo incontra dunque Gesù, la donna, in una situazione banale, quotidiana, di vita di tutti i giorni. Il pozzo le serve per cambiare la vita e per incontrare il Messia. Domanda per noi. Qual è il mio pozzo? Cioè non posso incontrare Dio in un paradiso illusorio che non c'è. Lo incontro a un pozzo, in una situazione molto semplice, concreta. ognuno di noi può citare il suo pozzo. La situazione di tutti i giorni. Una situazione che capita una sola volta o che capita spesso in cui si sente una presenza diversa. In cui si sente anche l'esigenza di una presenza diversa. È quello che succede alla maritana, alla samaritana ed è quello che succede a noi. Scoprire il Figlio di Dio nella nostra vita accanto a un pozzo.